Ma zi ma stai morendo, ma c'è 5 malattie Stefano in sto video Mi sta ricorrendo! No dove sei? Ma guarda ma cosa scrivete in sta lingua di merda che non si capisce in chat va Perché ho preso la pillola Ti prendo a clavate va Animal e animale benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati nei mini games, io e Stefanino oggi a lottare contro tutti Se volete le Sky Wars, se volete altri mini games Mi raccomando lasciate un bel pollicione in su e buona visione And I gotta stay high all the time to keep you in my mind, my, 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 my Oh, oh, oh Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Anime e bentornati in questo mio video Oggi sono in compagnia di Stefanino Ciao Come sempre registriamo i video a mezzanotte prima di partire Ma sì, prima di un viaggio Ma sì, chi se ne frega, tanto noi non fatichiamo mai Oggi ho la clava Madonna, spacco il computer Io c'ho la spalla e taglio le palle se non vinciamo Ma è falsa Allora Stefano oggi ci sono 400 dollari Come sono? 400 dollari in palio Davvero? Se vinciamo io ti regalo 400 dollari Ce li ho qua in mano, guarda, li lancio pure Proprio da... Sono finti Non sono finti zio, c'ho 400 dollari che puoi spendere, ce li ho ancora da Las Vegas Oggi andremo a fare il TNT tag Ancora non mi hai fatto il regalo di Natale Hai ragione Ma il mio regalo è farti vincere questi mini game Ma così mi dai 400 dollari? Esatto Non so se mi convince Comunque oggi andremo a fare il TNT tag e dopo i mixer di arcade Ah Stefano no, dobbiamo arrivare tutti e due sul podio eh, negli arcade game Assolutamente Sto già ballando, mi vedi? Si Tazzo di Joker Tazzo di Joker Boom Tazzo di Joker No tazzo di Joker Tazzo di Joker la lancio per terra, guarda 3 2 1 Non l'hai lanciata Forse l'ho tenuta in mano Stefano, noi dobbiamo collaborare, ok? Cazzone Ho fame Ho fame tu Cos'è? Dobbiamo collaborare Como è? Dai.. Sì, sì, ce l'hai lì Ah Ah, ce l'ho io Ah, come ce l'ho io? Attaccata uno, è morto, ma se ce l'abbiamo niente però devi aiutarmi. Così trasformi, vaffanculo. E se ti sormi tu non darla a me però Io l'ado a te se mi trasformo. Non mi ha visto quello con la Tianti, non mi ha visto. Ah eccoti da ti vedo, ma come sei arrivato lì? Bocca di le palle di neve stress. Oh, un sacco di merda Sì, come sei arrivato lì? T'ho caduto, aiuto. Ok, il gioco non c'è nessuno, non ci sta inseguendo nessuno, eh Sacco di merda Ma, ma... Non ne va, no Ah, adesso, basta No, vai, un po' di parkour qua. Dai, vediamo se ci riesci E voilà, io ce l'ho fatta Ce l'ho fatta anche io, questo. Non ce l'hai fatta? No, intanto scommetto 10 euro che ce l'hai tu adesso. Non ce l'ho, hai perso 10 euro, mi devi 400 dollari e 10 euro Mi dispiace, a sta parte non verrà messa. Pezzo di merda Ce l'hai dietro, Sascha? Sì, ma ho l'invisibilità. Eh, ma ce l'hai dietro? E io ce l'ho l'invisibilità. Dai, basta, non ti butto più. Eccoci Ho detto, non ti butto più giù. Ecco, guarda, guarda un po' che ci sono riuscito quando non c'eri tu. Attento, sa. Aiuto Dai dietro, dovrebbe essere anche lui il prossimo a trasformarsi. Ora, praticamente ci dovrebbe mandare al centro. Ma pezzo di schifo L'hai cacciato giù di schifo Cioè, è giù. Ce l'ho io. E basta? Solo io? Dove sono l'anzi gli altri? Giù. L'ho visto No L'hai mancato. Aspetta, te lo putto giù, tu ora dovevi prima te lo faccio cadere di sotto. Ok, 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 ci sono, ci sono, ci sono Sei? È giù, è in pasta ai cani. Non lo vedo però. Dall'altra parte. Dove? Hai tre secondi, Sascha, hai tre secondi. Come ho tre secondi? Sono proprio triste. Vincerò io per te allora. Ah, è fermo il tizio. No, no, ce l'ha con te. Ah, no, ce l'hai con me. Sì, 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 stai ancora con te. Ricorda te. Ce l'ho io. Ah, 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 me l'ho data. No, me l'ha ridata. Sta facendo il parkour, sta facendo. Sta facendo il parkour. No, esplodo. Bastardi. Stefano, facciamo in un altro, dobbiamo arrivare in fondo. Stefanino, adesso vinceremo noi. Lo step di party finalmente. L'abbiamo trovato, sì, con la console. Ma sì, ma stai morendo? Ma che c'è? 5 malattie, Stefano, in sto video. Welcome to the step me. Ok, adesso la dà subito. La dà subito, la dà subito. Ok, 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 sto scappando. Madonna, non ho mai visto un parkour così. Stai parlando sulla testa, sono dietro di te. Ah, ce l'abbiamo uno dietro che sembrava che se la tienete in testa. Quello di prima che rompeva il cazzo. Oh, l'hai cacciato giù, bravo. Vai vai, mastagarlo. A pezzente. Non c'è spazio per te qua se qua, capisci o no, capisci? Brava, no, ma perché hai cacciato giù anche me? Cado da solo tu. Sì, sempre io cado da solo, certo. Io non ci ho toccato. Vai vai, cacciò. Oh, gli ho data, gli ho data, sono scappato. C'ho dietro. Aia! Aia, c'ho dietro. Oddio, 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 oddio. Tra quanti secondi dura? 30. Cosa? Adia, gli ho data, se me ne vado. Ah, non mi prende. No, mi ha preso. Oh, zio, ti ho visto, ti ho visto, vai, corri. Gli hai data? Sì. Bravo, bravo. Ah, sono fuggito, sono fuggito, è morto, canto mio. Allora, Stefano, io sono sulla cazzo di capanna zulu, tipo bianca, in un angolo. Attenzione. Ti ha presa? Non ce l'ho, non ce l'ho. Non ce l'ho neanche io. Stefano, non mi cacciai giù. Sono cazzo anch'io. Sei secondi, Sasha, sopravvivi. Aia! No! Oh, che culo. Mi sta ricorrendo. No, dove sei? Yeah! Yeah! Scappa, Sasha. Quanto tempo ho? Non ti sta più seguendo. È finita. Mi sono salvato, mi sono salvato, ok. Ma io sono sicuro al 100% che adesso la dà a me. Non hanno me la data, non è vero. Stefano, ho mal al cuore. Quanto giocatore, possiamo ancora vincere, dai. Attenzione, scopriremo. Oh, no, io. Aia. Stefano scappa. L'ho tirata a uno. Ok, ok, non mi hanno rincorso. Allora, Stefano, occhio, perché adesso... Spama, spama a caso il tasto, occhio. Via! Via! No, ce l'ho io! Scappa, 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 scappa. Guarda un tizio. No, sono fottuto. No, no, no. Ce l'ho dietro, ce l'ho dietro. Gliel'ho data, gliel'ho data, gliel'ho data. Sì! Sì, sì. Grandissimo. Via, via. No, ce l'ho io. Ce l'ho io. Via, 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 via. No, me l'ha data. Bastardo cane. No, ho perso. Sì, mi ha cacciato in un buco. Non li vedo, non li vedo. No, ho perso. Qui siamo rimasti in tre. Devo riuscire a vendicarti. Ma perché arrivo sempre in fondo, uffa? Devo riuscire a vendicarti, Sascha. No, ce l'ho io. Ce l'hai tu. Ecco, vai contro quello col cappuccio bastardo che ce l'ha con me. Via! Occhio, occhio, ti ricorda a te. Occhio, 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 ti sta ricoprando. Occhio, adesso te la dai, probabilmente. Occhio, girati. Mi segue? Sì, 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 ma è lontano, è lontano. Tu continui a correre dritto. Occhio, ti ha ripreso, ti ha ripreso. No, no! Che schifo! No, ti ha latiata all'ultimo secondo. Andiamo a giocare agli arcade games, puoi ancora vincerti i 400 dollari. Ma guarda, ma cosa scrivete in questa lingua di merda che non si capisce in chat, va? Sascha, sono andata a prendere la pillola. Cosa sarebbe la pillola? Immagino. Oh, zì, dobbiamo saltare. Ho preso in pieno. L'hai preso? Cioè, l'ho saltato, ho preso il punto, hai sciccato? Eh, qua mi dicono di sì. Quanto sai? A quattro? A tre. Allora, sì, hai sciccato. Ma non è giusto questo. Quanto sei? Dieci. E undici. Opla! Vai così? Opla! Dai ce la possiamo fare? Dai che ce la facciamo? Opla! Quindici! Primo! Primo! Perché ho preso la pillola? Io no, non faccio. No, ragazzi, no, io non ce la faccio a questo gioco. Mi mette ansia. Deve copiare quello che mette lì sul muro. Dai così, mattone sotto. Vai stone qua sopra. Questo qua. Fine. Primo. Dici che non è giusto. Ok, ho finito. Uff. Come sono arrivato? Una merda, immaginavo. Io non sono arrivato proprio. Oh, no. Per cui è figo. Vai. Sì, mettiamoci in condizione di vincere, vai. Come si è attaccata alla pillola di Morpheus ai denti. Morpheus di merda. T'ho caduto nell'acqua, affanculo. Oh, ci ho fatta. Ok, ho fatto. Per me è impossibile sto gioco. Sono impossibili! Non so che vinci tu sto minasso arcade games. Mi sono arrivato quarto. Sei arrivato terzo. The floor is lava. Is on the table. Via! No, sono caduto subito. Anch'io, anch'io. Non ce la faccio io. Il parkour si è un due cose diverse, porca puttana. Terzo. Io non arriverò mai. Ecco. È finita. Allora, qua è tutta una questione di culo, ok. Allora posso vincere anch'io. Girati e guardali. No, no, non li guardo più. Non li faccio sfidali, sfidali. Ira, aragni del merda, veramente pensai vincere. Vaffanculo. Dove caspita sono? No, non c'è la vittoria qui. No, io ho sbagliato totalmente strato, ho sbagliato. Eccoti, ecco, l'ho trovato. Ho finito. Uno è morto da un ragno, com'è possibile? Era ecnofobico, si sarà messo in un angolo e l'avrà stuprata. È arrivato terzo? Io non arrivo mai, che due coglioni. Ah, ok, questo lo conosco. Allora, è facile. Questo potrei vincere, se gioco bene le mie carte. Primo, per me è andato. Ok, prima è andato anche per me. Oddio, l'hai fatto in corner, bro. Sì, non sono capace io. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. È tranquillo questo, proprio. È che io, io, mi dì l'ansia, hai capito? Oddio, sì. No, questo lo fallisco. Lo fallisco, lo fallisco, lo fallisco. Ok, ce l'ho fatta. Oddio. No, io l'ho fallito. Vai, questo ce l'ho. Vabbè, questo è facile, dai. Questo è facile, ce l'ho. Ok, lo fatti giusti. Ok, l'ho fatta anch'io. Sono primo. Sono primo per ora. Io sono a 17. Guarda lì. Ok, l'ho fatta anch'io questo. Preso anche questo. Ma Ufa, non vincerò neanche questo. Ho vinto. Sono triste. No, quello delle uova. Questo vinci sempre. Questo è vero, questo lo vinci. E sono sempre arrivato sul podio io. Qual è il tuo trucco? Spacchi sempre le uova? Boh, forse sto giocando abbastanza bene anche stavolta. Non lo so, sinceramente. Ah, cacca. In che colore c'è te? Ah, già. Sono sempre giallo, sono. Che cazzo. Io secondo. Ma perché vinco sempre al gioco più stupido? Allora, Stefano, no. Qua dobbiamo allearci. Non mi frega un cazzo. Perché ce l'altro me? No, perché ce l'altro. Perché gli altri sparano più veloci di me? E perché gli altri non si spostano? Attento, attento a passarmi nel mezzo. Ok, uno l'abbiamo cacciato giù. Ok, uno l'abbiamo cacciato giù. Ok, ho preso uno e l'ho ucciso. No, l'abbiamo cacciato giù loro. Eh, che ho preso io, ho preso un altro. No, lo so. Ma l'abbiamo cacciato giù qualcuno. No, adesso è schifo. Figlio di putt... Oh, c'hai... Oddio, come hai fatto il laggato? Perché si allenano sempre fra di loro? Sparano solo a te e sparano. E voi l'ha ucciso. L'hai cacciato giù uno, l'hai cacciato giù uno, bravo. Ma raga, questo non va indietro. Esatto, questo c'è i trucchi. No, non va indietro. No, questo c'è i trucchi, zì. Mi ha superato. No, sei al secondo. Ah. Ho vinto i 400 dollari. Non sei arrivato primo. Pezzo di merda, vedi i 400 dollari. Pezzo di merda. Vabbè, animale, animale, questo video può concludersi qua. Non siamo riusciti a vincere un cazzo di niente, neanche i soldi. Comunque fatemi sapere con un bel pollicione in su se volete vedere altri minigames per far tornare le Skywars e per continuare la serie in due che è... La pesca. Animale, io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci si becca, domani con un nuovo video. Stay angry. Stay animals, ciao. Ti prendo a clavate, va. Yeah. Yeah. Ciao